Eravamo a bordo campo e abbiamo visto una partita che tutti quanti abbiamo detto Ah ma i gialli stanno vincendo perché è evidente no? I gialli stanno vincendo il crime Ovviamente stavate vincendo voi che stavate invece controllando gli ultimi minuti Stavate 4-0 Stavate 4-0 vi siete potuti rilassare Vittoria facile Vittoria facile Benissimo ma ecco ti avviso che le squadre a bordo campo dicevano Sono scarsi questi qua a blu mi sembrano scarsi perché pensavano tutti ad una sconfitta E invece i primi minuti Dimmi il nome della squadra Beh dovresti saperlo sono Adidas e Sisal Li vedi in campo così Segnate ragazzi eh Perché probabilmente hai visto solamente gli ultimi minuti in cui eravate molto rilassati Ma diciamo che è stata una dura partita Siamo partiti subito col piede sull'acceleratore Messo a posto dopo un mezz'oretta Poi siamo andati in scioltezza In scioltezza alla fine abbiamo provato un po' di calcio a champagne Beh quindi praticamente siete già cattolica per le Final Four A giudicare dalle dichiarazioni della prima partita Esatto Compagni simpaticissimi per te Terremo d'occhio perché ci divertiremo con voi Grazie Sisale Sisale Alidas Sì Grazie 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 a tutti.